momento di forte dolore per il programma di cortesi e per gli ospiti dove un lutto improvviso ha colpito i giudici dello show di real time nel corso degli ultimi giorni è stata diffusa la notizia riguardante la grave perdita subita dal mondo della moda dove tutti si sono stretti al dolore della famiglia di salvo nicosia il 52enne nonché braccio destro della stilista alberta ferretti nicosia negli ultimi anni ha collaborato in modo stretto con i conduttori del programma xaba della zorza e lucca calvani sui social sono arrivati messaggi commossi di entrambi che lo descrivono come una persona bella e che lascerà un vuoto incolmabile